I clienti stanno aumentando un po' tutte le bollette, però ce n'è una che rimarrà uguale. Questa è una buona notizia. Sentiamo qua in questo servizio di Gianni Matera con il suo TG Green. Un'azienda pubblica dei numeri senza eguali. I 33.000 km di reti idriche e fognarie sono solo la parte più appariscente di Aquedotto Pugliese che gestisce la complessa macchina del servizio idrico integrato in Puglia in 12 comuni della Campania, più di 4 milioni di abitanti serviti. Sul finire di dicembre il Consiglio di Amministrazione di ACUPI ha approvato il piano di sostenibilità 2022-2024. Per Aquedotto Pugliese è fondamentale includere la sostenibilità nel proprio modus operandi. Fondamentale efficientamento della distribuzione è qualità dell'acqua. Siamo la prima azienda del mezzogiorno ad avere implementato un piano pilota per il piano di sicurezza dell'acqua che diventerà obbligo di legge nei prossimi anni. Le voci principali del piano di sostenibilità riguardano energia, gestione della risorsa, impronta ambientale dell'azienda e gestione dei rifiuti. Autoproduciamo il 7% dell'energia che ci serve. Ovviamente è una percentuale che detta così sembra minima, ma è una rivoluzione se noi pensiamo che fino al 2017 autoproducevamo poco più del 2% dell'energia. ACUPI è già certificata ISO 5000 per l'efficienza energetica. Il piano prevede l'attivazione di nuove centrali idroelettriche, che è l'aumento dell'utilizzo di energia solare e della produzione di biogas negli impianti di depurazione. Nel giro dei prossimi due anni, 34 gli impianti di depurazione che saranno dotati di questa tecnologia ed è uno dei temi che candideremo, per esempio, per il Piano Nazionale di Ripresa e Riesilienza. Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono al centro di un progetto pilota per la migliore gestione della risorsa idrica. Si lavora alla riduzione dei fanghi di depurazione. Smaltiti sono una voce di spesa, nell'economia circolare diventano risorsa. Nel 2022 la tariffa per gli utenti pugliesi, la tariffa del servizio idrico integrato, non aumenterà, nonostante ci sia un incremento dei costi, tra cui costi energetici, in via di, potrei dire, esplosione.